Salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video, siamo nella quarta missione di Prapor Allora, che cosa bisogna fare in poche parole? Noi bisogna trovare un documento Di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno della Custom Key che è a livello 2 della terapista La possiamo trovare a livello 2 della terapista e la possiamo scambiare per 3 gold chain O se no, addosso agli scav, insomma, un po' dappertutto si può trovare O se no, da fence la cercate, mentre se la gente la vende, bla 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 Dove bisogna andare? Bisogna andare su Custom Nella zona industriale, cioè industriale, anche l'altra è industriale, sinceramente L'altra è delle fabbriche, questa è la zona dei treni, dai Dove c'è il rosso, come lo chiamiamo in gergo, il mega capannonio, come lo volete chiamare Dobbiamo andare di sopra dove ci sono gli uffici E proprio a quello ci serve la Custom Key per aprire la prima porta Poi ci sono due porte, quella a destra la possiamo aprire normalmente E quella in fondo è da sfondare con la super gamba Quindi niente, qui ho allungato forse un po' troppo le cose da far vedere Comunque niente, sto salendo perché io non ce l'avevo la chiave Il Super Grey Fox invece ce l'aveva Ecco qua in fondo la nostra porta Dove troviamo una chiave che era del sanatorio di Shoreline E qui troviamo il nostro documento E dopodiché dobbiamo andare su Factory Su Factory molto easy più o meno Meglio farlo in coppia, andate da accetta Dobbiamo andare da questa parte dove c'è questo capannotto di sopra E ci dobbiamo entrare Ora qui scivolavo, non so dove riuscivo a entrare E in poche parole dobbiamo tenere premuto il tasto F per 30 secondi Sì, per ben 30 cazzo di secondi E niente, è qui, la missione è questa Dobbiamo uscire vivi in entrambe Nella prima sicuro, nella seconda non ricordo bene Però comunque dobbiamo uscire vivi Questo ricordatelo Quasi per la maggior parte delle missioni dobbiamo uscire vivi Quindi niente, una volta presa la missione Ce ne andiamo a riportare Quindi niente ragazzi Io vi ringrazio vivamente per la visione Noi ci vediamo nelle prossime missioni Chissà di chi saranno Quindi vi ringrazio di nuovo per la visione E ci vediamo alla prossima Bye bye